bene ragazzi ciao amici di fisherlandia benvenuti in un nuovo video e come dico di solito in questi casi ragazzi miei mettetevi comodi perché oggi io sono a presentarvi il nuovo starter kit spinning medium top by fisherlandia attenzione a questo nome che radice lunga poi lo svegliamo mano a mano che andiamo avanti facendovi vedere i protagonisti di questo starter kit perché in questo starter kit vi devo dire la verità non troviamo un protagonista solo ma qua i protagonisti sono su tutti i fronti un piccolo cenno è doveroso sui nostri starter kit i nostri starter kit non sono combo rumenta starter kit vuol dire kit per chi vuole iniziare a pescare ma siamo arrivati a un livello da poter permetterci di chiamare questo starter kit top medium top medium per azione nello spinning top perché è veramente un qualcosa un insieme di materiali che non sono sicuramente i più costosi non sono sicuramente i più economici ma sono assolutamente accuratamente messi insieme per potervi dare a casa un prodotto finito qua dovete soltanto prendere due ore del vostro tempo del vostro prezioso aggiungo tempo per andare a pescare e andare a pescare qua abbiamo veramente tutto quello che ci serve vi arriva a casa tutto pronto la canna il mulinello il treciato montato il terminale montato sul mulinello e poi tutto l'occorrente per farvi una bellissima pescata attenzione partiamo subito e veniamo al dunque il nostro starter kit medium top top perché secondo me abbiamo riassunto in breve tutte quelle cose che sono state veramente un top nell'anno 2022 anno 2023 per quanto riguarda la pesca spinning abbiamo cercato anche di differenziare in forma i nostri starter kit all'attivo sono molti quasi tutti esauriti praticamente tutti esauriti e abbiamo cercato ogni volta di differenziare qualcosa veniamo subito alla protagonista alla canna vi voglio anche raccontare perché medio un topo uno starter kit che è centrale ma con una grammatura leggermente più alta del solito perché è in virtù del fatto che la canna è leggermente più lunga quindi vi ricordo che io vi dico sempre 40 45 grammi in questo caso la nostra daiva ninja una canna che non ha bisogno di dimostrazioni assolutamente non è la daiva ninja evo è l'edizione precedente che è la daiva ninja ancora ancora in auge sul destino assolutamente di daiva scelta assolutamente perché esiste in questa misura 2 metri e 64 contro i soliti 2 metri 30 2 metri 40 delle soliti kit da spinning 2 metri 64 però in 45 grammi così facendo noi otteniamo che cosa uno spinning da farsi in tutti i posti dove c'è acqua dal lago per poter andare veramente distante nel lancio fare un long cast a tutto quello che riguarda il mare la pesca da terra scogliera spiaggia senza nessun problema e assolutamente anche dalla barca in tutte quelle piccole sfaccettature che alle volte lo spinning ci impegna quindi 2 metri 64 45 grammi sfiora quasi una canna da short jig in medio leggera ma con l'utilizzo anche ai me mi viene da dirlo purtroppo molti di voi me lo chiedono per la pesca dalla barca e per la pesca da terra anche l'utilizzo della bombarda ai me con piccolissimi artificiali di gomma che altrimenti non sarebbero lanciabili con questa canna lo potete fare non voglio fare la recensione però assolutamente guardate rifinitura tipo carbonio splittatura giusta eva perfetto canna dai va 2 metri 64 45 grammi anello in silicio meravigliosa due pezzi questa è la protagonista la canna vi arriva la canna nel suo tubo rigido anticoriere marchiato fischerlandi siamo a posto così l'altro protagonista il mulinello qua spendo ancora due parole penso di poter dire che il dai va ninja lt è il mulinello in assoluto più venduto degli ultimi anni di dai va e non solo un misto fra un mulinello medio economico con delle caratteristiche sovolutamente dei feedback perché i nostri starter kit devono funzionare non si devono rompere saremo rovinati con tutti gli starter kit che abbiamo in giro non abbiamo mai sbagliato uno attenzione dai va ninja lt perché vi faccio vedere quello con questa scatola con quella scatola blu perché ve lo spiego subito il dai va ninja lt appena uscito se guardate la mia recensione ha preso un piccolo ma marcato voto in meno perché non aveva che cosa la bobina di ricambio io ho voluto un mulinello con la bobina di ricambio perché chi compra uno starter kit e che chi vuole provare a fare determinate pesche potrebbe anche trovarsi un domani a voler fare una pesca a fondo a voler fare una pesca con la bombarda pesante magari anche in lago a voler fare una pesca con il pasturatore e allora se abbiamo un mulinello caricato con la treccia la treccia non va bene ecco qua la bobina di ricambio dentro questo mulinello taglia 5000 come voi tutti sapete sapientemente caricato da me e dai miei ragazzi con un trecciato che trecciato ci abbia messo quindi anche questo qua chiaramente il mulinello con la bobina è dentro il starter kit scusate la mia enfasi ma sono veramente contento e soddisfatto quando escono questi starter kit dico sempre questo veramente bello spacca di brutto perché quello di prima spaccava ancora di più forse o non forse no mi piacciono sempre di più mettiamo una treccia 0 16 150 metri di dai va otto capi dai va e attenzione ragazzi perché qua girano i kit girano i kit le combo con la treccia trecce ce ne sono di mille tipi ci sono delle trecce che costano un euro delle trecce che costano 100 euro questa è una treccia super testata voi la conoscete tutti benissimo non ha bisogno di presentazione anche questa quindi vi arriva a casa la canna nel tubo togliete la canna dal tubo prendete il pacchettino dove troverete dentro la scatola con il mulinello con la doppia bobina ve lo ricordo il mulinello vi arriva già carico lo carichiamo noi con 150 metri di treccia sotto abbiamo fatto il backing smontate tutto per controllare perché è fondamentale non è che si fa prima bisogna fare le cose ben fatte la treccia viene montata sopra e montiamo un metro e mezzo di terminale in questo caso un terminale dello 0 40 perché credo che possa essere univoco un po per tutto e possa andare bene soprattutto per le cose che vedremo dopo quindi vi arriva la canna montate il mulinello togliete il nylon dal line clip lo passate negli anelli e siamo a posto a questo punto veniamo alla parte quasi pescante dico quasi pescante perché chiaramente io qua vi metto un terminale come esempio con un nodal bride come facciamo noi ma vi metto anche chiaramente una bobina di fluorocarbon un fluorocarbon l'effici line della falcon che abbiamo provato così per gioco a mettere in un kit mi sembra leggero beh tutti sono rimasti molto molto contenti di questo nylon e da quel momento in poi ho deciso di metterla anche questo nei nostri starter kit perché ritengo essere 50 metri di fluorocarbon un buon fluorocarbon con una buona tenuta vi ricordo che questo oggettino qua costa 18 euro solo questo è come prezzo di vendita al pubblico andiamo avanti quindi trovati 50 metri dentro nostro starter kit poi troviamo degli snap usciamo un po dagli schemi dallo sgancio rapido di si spin 20 libre ma io vi metto comunque uno sgancio rapido sempre 20 libre ma in questo caso gli snap di bkk un'altra marca che credo che non abbia bisogno di presentazioni anche qua moschettoni ce ne sono tanti però io ci metto o il si spin o il bkk quindi attenzione scusate sempre la mia enfasi ve lo ripeterò fino alla fine del video ma questo mi gasa veramente tanto e qua ci abbiamo i nostri moschettoni tutto l'apparato che è pronto canna mulo treccia terminale snap siamo pronti ora dobbiamo attaccarci qualche cosa bellissimo iniziamo a vedere che cosa mettiamo dentro il nostro starter kit ci vanno delle esche le esche per una pesca spinning che già una pesca selettiva devono funzionare devono funzionare io mi potrei dare un secchio di esche per pochi euro ma di un secchio di esche ci fareste tutto tranne che andarci a pescare invece no in questo starter kit troviamo quattro esche ho selezionato quattro esche tutti di jatsui perché jatsui sta facendo delle cose con un rapporto qualità prezzo veramente interessante e sta uscendo anche con delle misure molto interessanti numero uno il drake 120 misura modello assolutamente super nuovo perché nei nostri starter kit non sono combo rumenta sono oggetti assolutamente comprati dal nuovo quindi questa roba qua la trovate tutti sul mio sito internet il drake 120 l'ho voluto panna e fragola mi piace panna e fragola bianco con la schiena rosa mi piace moltissimo lo trovate dentro nostro starter kit poi troviamo un must nei long jerk posso dire che anche questo si avvicina moltissimo ad artificiali di una determinata qualità il raft 170 l'ho voluto di questo colore perché questo è il colore che mi ha regalato un barracuda in scogliero la prima volta che ho montato questo artificiale sul primo lancio poi non è che tutte le volte che vado a pescare faccio barracuda con questo con questi colori però questo mi ha dato una certa sicurezza una certa garanzia quindi nella mia cassetta questo non manca poco vuol dire però mettiamo anche dentro un raft dentro il nostro starter kit arriviamo a un artificiale devo cercare di aprire le porte a tutti un hard bait che però sia fondante che però sia di una misura molto più contenuta mi viene in mente la spigola o serra in un recupero più o meno veloce quindi qua dentro metto lo zerca questo è un artificiale ragazzi lo zerca 90 è un artificiale che pesa tantissimo è un'artificiale da distanza perché questa è una canna fatta appositamente costruita concepita come misura e grammatura per andare distante quindi un artificiale che si lancia molto in distanza ma rimane ancora piccolo quindi qua possiamo aprire le porte a una bella palamita un bel alterato dalla barca o magari dalla scogliera ma assolutamente anche la spigola cercata più in profondità o il serra nel movimento e nel recupero più frenetico non poteva poi chiaramente mancare un artificiale di piombo quindi un jig vero e proprio perché come vi dicevo si può assaporare un pochino anche quello che è il light short jig con una canna del genere io vi metto dentro Jatsui Assault un artificiale che è corredato di ami veramente galattici perché io questi li uso per altre cose dressati due ami sulla testa dell'artificiale 30 grammi di peso in una misura molto molto contenuta attenzione è una misura di poco più di 5 centimetri quindi molto contenuta peso discretamente elevato 30 grammi si lancia veramente gli start qua abbiamo concluso quello che è il mondo della nostro starter kit dipendi un top con tutte quelle che sono le esche ora ragazzi dobbiamo andare a pescare però Flavio a noi piace tanto quando tu negli starter kit metti e aggiungi qualche cosa non c'è problema volete che aggiungo qualche cosa questa volta l'ho presa sul serio questa cosa quindi aggiungo che cosa non possono mancare un paio di forbici ma non vi metto le solite forbici che tagliano bene il nylon le trecciate eccetera vi metto le bright shissera che sono queste sempre di Jatsui originale originale forbicine con la custodia per poterle mettere la custodia alla borsa oppure alla giacca oppure al pantalone in modo che non vi fate male ce l'avete sempre dietro una forbicina che è nata assolutamente per tagliare trecciati e li taglia molto bene con all'interno il cavetto anche per poterla tenere in modo che se in scogliera ci cade per terra rimane agganciata al cavetto e non la perdiamo anche questa è dentro il nostro starter kit dello spinning la cosa che è molto difficile da ottenere è quando peschiamo un pesce il salparlo soprattutto perché è molto pericoloso prendere un serra un pesce addirittura ancor peggio un pesce azzurro che si dimena quindi la cosa giusta per poter poi manovrare in bocca al pesce l'artificiale togliere eccetera eccetera è il boga grip oggi vanno questi io ve lo metto dentro un boga grip galleggiante galleggiante un boga grip galleggiante che ha lo stesso sistema delle pinze quindi una volta chiuso viene chiuso proprio per bloccare per bogare il pesce per poterci lavorare tranquillamente poi lo possiamo lasciare andare in mare oppure possiamo andare a lasciare nella pentola voi la scelta chiaramente etica mi raccomando sempre attenti quindi assolutamente boga grip galleggiante molto pratico questo questo pinzone qua è veramente molto pratico e anche questo ve lo metto dentro lo starter kit attenzione siamo arrivati alla fine alla fine di tutto chiaramente con tutto questo materiale che è di jatsui ringrazio il distributore jatsui assolutamente perché propone per il nostro starter kit uno splendido cappellino jatsui ricamato qua non c'è niente di stampato da appiccicato questo è un cappellino jatsui ricamato quindi grazie a tutti anche questo ve lo metto dentro lo starter kit voi direte basta flavio vedete questo starter kit quanto va siamo già a 200 e passa euro di materiale comprando la parte è vero però io con questo starter kit voglio voglio proprio dare un segno come cerco di fare di solito ma in questo caso mi sono impegnato ancora di più che cosa ci mettiamo una scatola cosa vi do la roba in un sacchetto no vi do una un contenitore per le esche artificiali per fare spinning le scatole le abbiamo già viste le abbiamo già fatte abbiamo già messo tutto nei nostri starter kit il nostro starter kit non abbiamo mai messo questa 50 euro di valore al pubblico 50 euro 50 euro di valore al pubblico è la borsa da spinning a marsupio volendo o a tracolla ora vi spiego meglio struttura assolutamente rigida perché abbiamo un piano di appoggio per poter appoggiare le esche per poterle cambiare nella parte anteriore abbiamo una taschina molto molto carina con una bella cerniera che ci permette una volta aperta di poter mettere dentro i nostri fili le nostre bobine di ricambio abbiamo questo che è il laccetto per poterla utilizzare anche a tracolla e non soltanto come marsupio qualora vi venga più comodo metterla a tracolla da questa parte abbiamo chiaramente due bottoncini dove possono uscire le lenze i nostri attacchini per la nostra tracolla e qua abbiamo scusate scusate mi ha scappato via il cartellino e qua abbiamo il nostro sportellino ok che è uno sportellino che dà accesso a quello che è l'interno della nostra borsa quindi abbiamo esattamente 18 posti quindi 1 2 3 4 5 6 6 per 3 18 posti per metterci dentro le nostre esche ci stanno dentro anche fino ai long jerk attenzione perché una volta che mettiamo dentro anche un artificiale da 120 che quindi va a sparire laggiù in fondo qua cade tutto possiamo tranquillamente tirarlo su con questo elevatore perché questa parte ha la parte come vedete con i fori per far scolare l'acqua e quindi questa parte qua è la parte con l'elevatore che quindi va messa e tolta in questo caso possiamo poi andare a lavare le nostre esche perché dalla parte posteriore della nostra borsa come vedete qua c'è il cursorino cioè la parte posteriore della nostra borsa ha gli sfiati per poter far uscire l'acqua in questo caso possiamo chiaramente anche andare a togliere la struttura quindi possiamo anche togliere qualcuna di queste se abbiamo meno esche e magari usare la borsa per una capacità maggiore da questa parte da questa parte solo per le esche bene detto questo ragazzi qua si conclude il nostro starter kit arriviamo subito al valore commerciale di tutta questa merce perché sennò qua mi viene da sudare allora attenzione valore commerciale di tutto questo siamo presi i prezzi presi dal nostro sito internet che come sapete assolutamente è allineato con tutti i siti internet anzi spesso e volentieri ultimamente abbiamo delle offerte molto interessanti molto importanti quindi i prezzi magari sono anche più bassi il valore commerciale di tutto questo è di circa 280 euro 280 euro questa volta in proporzione è assolutamente ho voluto fare qualcosa di più proprio perché e per dare il segnale che questi starter kit sono starter kit fatti veramente col cuore con la passione tutto questo starter kit anziché 280 euro circa io ve lo mando a casa con il corriere espresso il tubo rigido per la canna spedizione completamente gratuita a attenzione a e qua tac scatta la televendita ve lo mando a casa a 199 euro più di così ragazzi credo che non si possa fare 199 euro tutto l'ambaradan tutto pronto e possiamo andare a pescare a passarci due ore assolutamente in serena compagnia di qualche amico o in serena compagnia di noi stessi a questo punto ragazzi qua sotto trovate in descrizione un link un link una stringa con scritto starter kit spinning medium top by fisherlandia andate lo potete andare a comprare nel momento in cui mi arriva l'ordine io lo prendo e lo spedisco attenzione lo dico a tutti perché poi quando finisco quando ci sono siamo tutti contenti quando poi finiscono diventano discorsi io discorsi non ne faccio lo dico in tutti i video lo continuerò a dire in tutti i video dei nostri starter kit il nostro starter kit ce n'è ne facciamo moltissimi pezzi e grazie anche a questo che chiaramente riusciamo a fare questi sconti si parla di uno sconto già sullo scontato non ci sono i giochi delle tre carte questa roba a listino potrebbe andare a 350 euro 280 euro già scontata sull'ordine dell'idea di prendere la 199 si sta parlando di un 30 per cento abbondante di sconto o qualcosa giù di lì adesso va da memoria quindi tutto questo lo trovate a vostra disposizione ma il numero è definito è chiuso una volta che questi kit sono chiusi finiti li abbiamo finiti provati non ce ne sono più se ne potrà aspettare un altro ce ne saranno sempre di più belli però questo fine dei giochi possiamo comprare proporvi esattamente tutto quello che vi ho proposto però diciamo al prezzo normale questo deve essere molto chiaro quindi ragazzi a questo punto cosa vi devo dire ho perso la voce ma sono contento come avete visto questo starter kit forse è stato uno di quelli che mi ha gazzato di più mi fa proprio piacere l'ho proprio sentito vi do appuntamento chiaramente al prossimo video al prossimo starter kit continuate a seguirci sui nostri social iscrivetevi al nostro canale youtube e attivate le notifiche questa è la routine che per noi è sempre molto importante qua sotto trovate il link in descrizione starter kit spinning medium top by fisherlandia e questo potete andare a vederlo o a comprarlo solo dopo aver visto questo video mi raccomando lasciatemi nei commenti quello che vi fa più piacere lasciarmi a questo punto io e il nuovo starter kit by fisherlandia vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi ciao ciao